Max Damioli è laureato in psicologia ed è stato per 5 anni direttore del dipartimento scienza della performance di STC Change Strategies di Arezzo, dove ha conseguito un master in comunicazione e problem solving strategico. È inoltre un performance coach a indirizzo ipnotico-costruttivista ed è cofondatore della scuola Skills di Respiro. Attualmente allena atleti di livello internazionale e lavora per aziende multinazionali in Italia e all'estero. Partecipa come speaker di successo ai maggiori eventi formativi e convention dal 1981. Max Damioli sarà con noi il 31 ottobre per la giornata formativa intitolata Siccome ho fretta, vado piano, in cui parlerà di come investire tempo per la performance. I tre temi principali saranno 1. Tecnico, atletico, mentale. I tre elementi di una performance. 2. Un obiettivo non misurabile è un sogno. Misurare una performance. 3. Una performance di alto livello è pericolosa. I rischi della performance. Vi aspettiamo a Riccione il 31 ottobre con Siccome ho fretta, vado piano.